Ciao, sono Mario Castagna, vice direttore di Gifoni Experience, siamo a Bologna con il Celebration Tour, un'attività grazie alla quale parliamo un po' alle piazze d'Italia, qui siamo a Piazza Maggiore. Bologna è una delle città principali dove sono attivi i corsi di Gifoni Formazione, un'area che abbiamo allestito con l'esperienza quarantennale del Gifoni Film Festival e con Combo 2, società accreditate, società importante per quanto riguarda la formazione a livello professionale. I corsi di Gifoni Formazione hanno aggiunto da molte persone, a molti ragazzi, la possibilità di formarsi in determinati settori a loro affini, per esempio l'event managing, per esempio la sceneggiatura, la regia. È un modo quindi per migliorare, per trovare una propria strada nella vita lavorativa. Vi aspettiamo ai corsi di Gifoni Formazione.